Ecco il registro delle firme, ma la bellezza di questo registro è che già nell'88-89 sullo stesso registro ci sono già numerosissime firme di persone, di cittadini che allora avevano una ventina d'anni in meno, per cui adesso facciamo una rassegna di queste belle fotografie, di queste santelle, questo è Remedello, Isorella, naturalmente fotografie che ritrovate anche nel libro, le fotografie che non sono esposte dopo si trovano su quei volumi che abbiamo visto prima esposti sul tavolo, Carpenedolo, Montichiari, Montichiari ancora, questo deve essere San Rocco, Scritti, Scritti, Piedana, le altre che non sono esposte. Queste riguardano carpenedolo, acqua fredda, palbuina, senica, questo invece è gotolengo, gambara, fiesse, pavone, mella, cadimarco e cibole. Come vedi, dice che non hanno soldi, io ho parlato con la bibliotecaria, con la bibliotecaria, però rifiuto su, rifiuto a me. Bassa, malpaga. Questa è una frase del Papa Giovanni Paolo II, la legittimità della venerazione delle icone nella Chiesa merita un'attenzione speciale. Calvigiano 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 ancora Ecco amici dei Capitei, si ringraziano gli sponsor La famiglia Ravazzolo inoltre ringrazia Don Emilio Pinzi, Pietro Treccani, Pietro Ferruccio Ravazzolo, Agostino Giorzetti, la parrocchia di Calvisano, Alberto Decca, Sara Treccani per le grafiche e la prologo di Calvisano. Male